La Sardegna continua il drammatico calo della natalità nell'isola con 5 bambini, ogni 1000 abitanti. La Sardegna detiene il record negativo nazionale. Crisi e paura del futuro frenano la voglia di famiglia. Elisabetta Zeni. 10.000 abitanti meno rispetto al 2018. Un calo drastico delle nascite in linea con i dati nazionali, mentre non si ferma il flusso di giovani che lasciano la propria regione per trasferirsi all'estero. Per l'Istat è il record negativo di sempre dagli ultimi 150 anni e il primato nazionale lo detiene la Sardegna confermando un trend ormai consolidato. Questa riduzione è sempre più importante e io lo interpreterei come un grido d'allarme per chi prende le decisioni per attivarsi a supporto delle famiglie e quindi dare un'iniezione di fiducia a chi decide di mettere al mondo un figlio o eventualmente di allargare la famiglia. Sulle ragioni di questo decremento demografico, attorno al quale gli esperti non smettono di interrogarsi, l'ACLIP lancia l'allarme e chiede l'intervento della politica regionale. Si deve costruire un progetto coinvolgendo tutti gli attori sociali, quindi penso non soltanto alla classe politica che deve in qualche modo pensare a un provvedimento urgente, ma anche il mondo imprenditoriale del terzo settore. Quindi tutti i soggetti insieme possono pensare a un programma a medio e lungo termine. Solo così si può invertire la rotta.